Le imprese forse sono la parte più importante oltre agli studenti per un territorio come quello di Torino e infatti noi della Camera di Commercio non ci dimentichiamo delle imprese e anzi dall'anno scorso abbiamo voluto sottolineare l'importanza di nuovi modelli di innovazione che vengono proposti durante l'European Innovation Academy anche per le imprese, non solo per le start-up per le imprese a forte ambizione di crescita con un po' di anni sulle spalle che hanno già una buona tecnologia che stanno vendendo sul mercato ma che in effetti con una contaminazione di esperienze internazionali e di opportunità che vengono da oltre il centro in particolare da Palo Alto, da Berkeley, dalla Silicon Valley possono sicuramente crescere. La nostra ambizione anche è vedere l'European Innovation Academy non solo come un attrattore per tanti studenti per tanti talenti che magari andranno a lavorare in impresa ma anche per le nostre imprese perché crediamo che qui a Torino la tecnologia ci sia, ci sia la volontà imprenditoriale e ci sia anche la capacità di crescere.